Giustizia per Ilaria, i familiari della donna di 48 anni investita e uccisa dall'attore Domenico Di Ele vogliono capire perché siano stati concessi domiciliari all'indagato. Nelle prossime ore la lettura del provvedimento giudiziario e il colloquio con il PM Elena Cosentino. In esclusiva ad 8 Channel le dichiarazioni dell'avvocato Michele Tedesco, il noto penalista salernitano cui si è affidata la famiglia della vittima. Abbiamo un papà che è un carabiniere in congeto e il fratello di Ilaria che è un carabiniere. Quindi innanzitutto senza leggere un provvedimento, criticarlo signiferebbe soltanto dare spazio al rancore all'odio, al risentimento. Loro vogliono leggere il provvedimento, vogliono capire quali sono le motivazioni e soprattutto vogliono che venga fatta giustizia e che il sacrificio alla figlia non possa essere inutile e vano. Ho un incontro con la dottoressa Cosentino al fine di valutare e di sollecitare, ed è questo il nostro potere come persone offese nella fase delle indagini, le attività investigative necessarie sui tabulati telefonici, sulla consulenza tecnica per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica dell'incidente, nonché la verifica anche di una necessità di una consulenza tossicologica per capire anche la quantità e le modalità di assunzione della sostanza tossicofacente per capire quando si è drogato rispetto al momento in cui si è verificato l'incidente.